guardate un po sfoglia con la mela mettiamo così dovrei fare tipo 6 ok così e poi farò così ok allora le mele sono queste facciamo delle striscioline così da un centimetro circa ande provo a farla con una più sottile vediamo forse meglio è vediamo un po ecco qua mettiamo a metà è così siamo che in più più si lavora un po meglio ecco qua non è bastato uguale una niente prendiamo un'altra eccola qua anche se si vede un po la mela non fa niente è carina uguale guardate un po' Grazie a tutti. Guardate che belle. Questo colcetto. Grazie a tutti. Mettiamo il forno a 170 gradi per 25 minuti. Ragazzi, questo è il risultato. Guardate le mele con la sfoglia. Oh my god. Che profumo e sicuramente saranno buonissime. Ragazzi, guardate un po' la sfoglia con la mela. Allora, assaggiamo. Buonissimo. Semplice. Una merenda o una colazione sana. Facile da fare. Guardate la mela. Mmm. Morbida. Buonissimo proprio. Buon appetito. Se ti è piaciuto questa ricetta, condividilo con i tuoi amici. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Grazie.